Sono partiti dal mese di marzo gli interventi per la cura dell'erba nelle aree della città e nei parchi pubblici di Fano. Questa mattina gli operai a lavoro con dei cespugliatori e tosaerba hanno operato lungo la rocca malatestiana e nei giardini adiacenti. Ad eseguire le operazioni Aset S.p.A. che gestisce oltre 800 mila metri quadri di verde in tutto il perimetro fanese. È un'estensione che va curata nei minimi termini perché non sono campi aperti ma sono giardini, quindi con tutte le problematicità che ci sono e le caratteristiche peculiari della lavorazione nei giardini. Ci abbiamo sulle 530 aree. Abbiamo superato il millesimo taglio, quindi vuol dire che in tutte le aree di nostra competenza ci siamo passati due volte. Purtroppo quest'anno per ragioni climatiche c'è stata l'esplosione del freddo che c'è stato fino a dieci giorni fa e poi dell'esplosione delle alte temperature che ha portato ad una forestazione quasi dell'ambiente. Di conseguenza la nostra organizzazione è un'organizzazione che pur essendo elastica non ti permette di assumere 40 persone come ci sarebbe bisogno di fare in questo momento per poi licenziarle tra 15 giorni e 20 giorni perché sappiamo benissimo che tra un mese e mezzo questo problema qui non c'è più in quanto le erbe si seccano e quindi il problema non ci sarà più. Per adesso non abbiamo notato criticità, siamo in stretto contatto con i tecnici comunali che qualora ci fosse delle criticità ce lo comunicano. Il presidente Reginelli precisa che anche i cittadini possono fare la loro parte segnalando criticità, chiamando il numero del servizio verde pubblico di ASET. Non tutto quello che è verde e tutto quello che è fuori misura praticamente è di competenza dell'ASET perché ci sono le competenze della provincia, ci sono le competenze dell'ANAS quindi magari andando in macchina uno, che ne so, tipo i bordi strada oppure determinati high wall, sparti traffici che sono nella provinciale pensa che erroneamente che siano di ASET ma non sono tutte di ASET. Io vi posso assicurare che noi siamo presenti su tutta la città con un po' più di attenzione su certe aree ma ripeto sono stati fatti mille tagli quindi tutte le aree di nostra competenza sono già state tagliate due volte quindi così continuiamo.